La pista in cemento di circa due chilometri all'aeroporto di Fano, argomento di discussione da assemblee pubbliche da innumerevole tempo, non si farà più. L'ENAC, che aveva accantonato l'importo di oltre due milioni di euro per finanziare la realizzazione della pista, ha definitivamente cancellato il finanziamento. La comunicazione scritta della direzione pianificazione progetti dell'ENAC di Roma è stata recapitata in settimana all'onorevole di Sel Lara Ricciati, che nel novembre 2016 aveva sollecitato l'ENTE proprio questo riguardo con un'interrogazione scritta. La decisione di cancellare il finanziamento, come si legge nella lettera, sarebbe scaturita dalle incertezze sulla futura gestione dello scalo e la mancata condivisione con gli enti territoriali circa l'iter di valutazione degli aspetti ambientali connessi all'intervento, circostanze che avrebbero reso incerte le tempistiche e compromesso la fattibilità dell'intervento. Per il nuovo amministratore dell'aeroporto Massimo Ruggeri la pista però in questa fase non rappresenta affatto una priorità, sono ben altre le contingenze da risolvere. Mi stai facendo una domanda a cui non so rispondere, in quanto per questo momento non è la mia priorità. Dalle indicazioni che ho io, dall'ENAC di Ancona, anche loro non sanno niente, per cui sicuramente è un'indicazione data dall'ENAC Roma. Per cui appena ho notizie vi farò sapere, ma in questo momento non ho notizie differenti da quelle che sono attuali. Nel futuro sviluppo, una volta messi in piano le cose, qual è la sua filosofia? Come intende portare avanti la questione? Non so se la pista in cimento rappresenta una questione di sviluppo o no. Quali sono le carte da mettere in campo per sviluppare l'aeroporto? Sicuramente l'accontazione fondamentale è di collaborare tutti insieme perché nell'aeroporto di farlo, come ho già detto nei primi giorni che sono arrivato, ha delle grosse capacità, delle vostre potenzialità e delle grosse anche servizi che ci sono lì dentro, dalla scuola di Voldo, dalla scuola di pariutisto, per cui sono delle eccellenze a livello non solo nazionale ma quanto internazionale. Per cui le priorità è quello di far funzionare l'aeroporto nel modo possibile. Poi la pista è una cosa che si affronterà man mano che viene, non è una priorità, secondo me la priorità è di riorganizzare l'aeroporto, farlo funzionare, mettere in trasparenza tutti quelli che sono i contratti, quelle che sono le situazioni attuali, in modo che qualsiasi persona possa cedere a vedere esattamente quali sono le condizioni. La cosa fondamentale è questa, secondo me. È una vicenda gestibile, l'aeroporto non è un vullus inestricabile? Beh, non è un vullus inestricabile, ci sono delle problematiche che stiamo cercando di sistemare, ci sono le volontà di sistemarle, di andare avanti e di sistemare le cose all'interesse di tutti, della proprietà, della società e di tutti quelli che lavorano lì dentro. Il mio compito credo che sia questo. Raggiunto questo compito, tutto quello che viene è tutto di più.